Prima la legge elettorale, poi le riforme costituzionali, infine le Olimpiadi a Roma. Tutte operazioni per distrarre l'attenzione del pubblico dalla crisi economica. La legge di stabilità è addirittura d'arrivo e sembra un insieme di marchette, mentre un milione e mezzo di lavoratori e lavoratrici scioperano e il 70% dei luoghi di lavoro aderiscono all'iniziativa di CGL e Will. Renzi la smetta di governare contro il lavoro e contro il sindacato e provi a operare in Italia e in Europa una svolta.